Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi andiamo a vedere otto previsioni che ho definito le più assurde che sono state sparate fuori da personaggi di spicco del settore economico, finanziario oppure tecnologico, visto che parliamo comunque di criptovalute. Predizioni chiaramente del prezzo di bitcoin, per chi non l'avesse intuito. Si dividono chiaramente chi è mega hyper bullish ovvero che vede bitcoin andare verso l'infinito e oltre parlando di cifre come centinaia di migliaia di dollari nonché milioni, che aduce chiaramente le proprie motivazioni che poi commenteremo insomma, e chi invece di controparte ovviamente lo vede privo di valore e lo vede prossimo allo zero. Questo video ha uno scopo più che altro, come si può dire, di riderci sopra perché ovviamente non si può prendere sul serio questo tipo di previsioni, magari qualcuno potrebbe avere anche motivazioni più o meno sensate che come vedrete tra poco è una minima parte del caso, ma parlare di predizioni di prezzo future è una contraddizione, nel senso nessuno può sapere quanto varrà bitcoin nemmeno tra tre giorni e quindi figuriamoci parlare del 2020, del 2025 e cose di questo tipo. Quindi mi raccomando non prendete sul serio queste predizioni che vi sto per mostrare, facciamoci una risata, ecco lo scopo è soltanto questo. Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre il mio lavoro e di miei contenuti lasciatemi un like a questo video che è sempre un grosso incentivo per me per continuare a produrre, iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanellina per non perdere nemmeno una notifica dei nuovi video appena escono e commentate qua sotto con la vostra predizione. Giochiamo anche noi a fare quelli con la sfera di cristallo. Secondo voi a quanto può arrivare il prezzo di bitcoin a fine 2019? Ditemi la vostra e andiamo a vedere le predizioni più famose e più assurde che sono state fatte. La prima predizione di oggi arriva da un bitcoin bull perché è una predizione positiva ed è Tim Draper. Tim Draper è un investitore miliardario chiaramente e in parte grazie a bitcoin proprio perché ha acquistato i suoi primi bitcoin quando valevano 6 dollari circa investendo 250 mila dollari. Tuttavia ahimè ha perso tutto il collasso di mt gox nel febbraio 2014 ma dopodiché non contento ha acquistato 40 mila bitcoin ad un'asta federale per 600 dollari al pezzo. Niente male. Adesso quindi direi che male non sta. La sua predizione per l'anno 2022 sta a 250 mila dollari per bitcoin. Come mai questa predizione è così bullish? In realtà non lo sa bene neanche lui perché insomma si ha dato tanta, ha gasato tanto, c'è tanto hype dicendo sarà una cosa incredibile, una cosa folle, nessuno ci credeva però poi succederà eccetera eccetera. L'unica ecco piccola logica se così la vogliamo chiamare che c'è dietro alla sua predizione è un paragone con la curva di espansione di adozione che ha avuto internet nel suo inizio ecco al suo inizio. Secondo lui bitcoin sarà più grande ancora di internet quindi la curva sarà ancora più esponenzialmente crescente e da lì arriva in un certo qual modo alla sua predizione di 250 mila dollari per bitcoin nell'anno 2022. Andiamo avanti sempre con i bitcoin bulls. La seconda predizione che guardiamo oggi è stata fatta da niente po' po' di meno che i gemelli Winklevoss. I gemelli Winklevoss per chi non lo sapesse sono i due fondatori del exchange Gemini non a caso si chiama Gemini infatti e la loro storia particolare ve la racconto in breve praticamente loro avevano ideato il social network l'idea il concetto di social network in quanto studiavano ad Harvard e hanno avuto l'idea appunto di creare un social network per gli studenti di Harvard questo quattro anni prima che nascesse Facebook. Hanno chiesto a Zuckerberg di aiutarli nello sviluppo e dopo un po' Zuckerberg ha lasciato il progetto. Quattro anni dopo per l'appunto è nato Facebook. I gemelli Winklevoss hanno fatto causa a Zuckerberg una causa civile per svariate centinaia di milioni di dollari di cui ne hanno ricevuti soltanto mi pare 60 o giù di lì che hanno investito e li hanno utilizzati per appunto investire nel campo delle cripto e creare tra le varie cose l'exchange Gemini. Loro due vedono anche loro sono due bulls chiaramente e vedono Bitcoin a 320 mila dollari. Per quale ragione? Perché secondo loro il market cap di Bitcoin supererà quello dell'oro quindi qua abbiamo addirittura una ragione per questa predizione. Facendo un rapidissimo calcolo comparando appunto il prezzo attuale con la capitalizzazione attuale e il prezzo che avrebbe se avesse una capitalizzazione di 7 trilioni che a quella dell'oro salta fuori appunto questo questa famigerata cifra. Quando accadrà? Non lo sanno. La data immaginiamocela noi. In futuro accadrà. Non si sa quando ma succederà. Quindi non si sono esposti quantomeno sulla data però sì sul prezzo. Andiamo avanti. Dopo i gemelli Winked Wars abbiamo Tom Lee che è un economista. Un economista diciamo un po' più avanti dei suoi colleghi più invece old school. Solitamente gli economisti vedono male Bitcoin. Lo vedono come un asset esageratamente speculativo senza sottostante. Insomma sappiamo bene che cosa ne pensano la maggioranza di loro. Infatti poi vedremo anche alcune loro predizioni. Tom Lee che è il co-founder alla Fundstrat Global Advisors nonché un ex chief equity strategist della JP Morgan vede Bitcoin a 25.000 dollari entro la fine del 2018. Quindi in realtà è una previsione già fallita. Ve l'ho riportata lo stesso perché era è curioso il motivo che hanno adotto a questa predizione. Soprattutto ci fa capire la fallacia delle predizioni stesse. Il motivo era il fatto che il costo del mining è legato strettamente secondo loro al prezzo di Bitcoin. Quindi facevano un calcolo che appunto teneva in considerazione quanto costava minare Bitcoin in base ovviamente alla difficoltà del tempo e diceva che non poteva più scendere. Ovviamente questa predizione è stata fatta era a metà luglio quindi eravamo già in bear market però secondo loro il bear market era in fase terminale e in seguito avremmo visto dei nuovi higher highs quindi dei massimi più alti per l'appunto al intorno a 25.000 dollari. Secondo loro appunto il costo di mining implicava un fair value ovvero un valore sensato un valore accettabile sopra i 20.000 dollari e pensavano che appunto il 25.000 dollari fosse un target totalmente fattibile totalmente possibile cosa che come abbiamo visto non è stato. Vi dicevo questa predizione ve l'ho riportata proprio perché il discorso del prezzo del legare il prezzo di Bitcoin al costo del mining è un tema che ha saltato fuori più volte e tuttora si discute. Non lo so cosa ne pensate voi ma secondo me sono due cose totalmente disgiunte proprio perché è difficile stimare il prezzo del mining di un Bitcoin in quanto è estremamente variabile da persona a persona, da persona a industria, da stato a stato e da un giorno all'altro anche perché è volatilissima anche la difficoltà, è volatile il prezzo e inoltre poi c'è da tenere in conto che non è che tutti minano soltanto per profitto istantaneo, molti lo fanno come investimento nel tempo quindi è davvero difficile ecco legare il prezzo del mining, il costo del mining al prezzo di Bitcoin. Andiamo avanti, andiamo avanti aumentando la predizione di un ordine di grandezza arrivando a 250 mila dollari. Attenzione questa è una predizione fatta sempre nel 2017 quindi nel passato però secondo lui entro il 2020 doveva succedere. Questo per quale motivo? Dunque Jameson Lopp, ecco lui che ha fatto questa predizione che era un software engineer della BitGo e inoltre è il fondatore della Casa, non so se avete presente l'azienda che ha creato il Casa Node ad esempio che ha quel nodo di lightning network fai da te quindi semplicemente è già pronto diciamo va solo attaccato all'elettricità alla rete e hai il tuo nodo di lightning network. Attenzione ecco ne approfitto per dire una cosa io questo video ha palese sfondo ironico perché si parla appunto di predizioni esageratamente folli ma non vuole ironizzare sulle persone che sono persone estremamente capaci e insomma delle teste delle delle personalità importanti economisti ingegneri comunque per l'appunto meritevoli di rispetto per quello che fanno e per quello che sanno soprattutto quindi appunto non vuole essere una presa in giro alle persone ma soltanto alle predizioni che hanno sparato fuori. Torniamo a noi Jameson Lopp ha addirittura utilizzato un algoritmo matematico quindi ha preso la variazione media giornaliera di bitcoin negli anni nei sette anni passati escludendo il 2014 perché era negativo no in realtà ecco qua mi rimanda il suo tweet ma in realtà non è cioè è vero era l'unico anno negativo ma per lui perché mt gox ha influenzato negativamente il mercato e comunque appunto vi ripeto era negativo quindi influenzava la variazione percentuale era molto meno bullish e quindi tiriamolo via fatto sta che il suo trend portava ad arrivare a 250 mila dollari entro il 2020 sarei curioso di vedere come cambia questo calcolo includendo anche il 2018 che sicuramente non è stato bello e quindi niente questo è chissà se ha senso. Andiamo avanti infine con il più famoso degli shillers di bitcoin e la predizione più famosa in assoluto ovvero quella di John McAfee. John McAfee ha sparato un valore previsto di un milione di dollari a bitcoin entro la fine del 2020 e tra l'altro ha fatto pure una scommessa dicendo che se non dovesse accadere lui si sarebbe mangiato il suo membro quindi ecco speriamo che accada che dire quantomeno per non doverci godere quella scena e quindi mi raccomando ecco manipolatori fate di tutto per farlo arrivare a un milione e risparmiarci di vedere quella scena lì e magari poi se così succede ce ne andiamo anche in vacanza tutti insieme alle Maldive per un annetto e festeggiamo il milione di dollari per bitcoin. Ovviamente questa predizione non ha nessun tipo di fondamento né calcolo ma secondo lui succederà. Quindi questi sono i bitcoin bulls. Andiamo ai bears. Ho che non credono in bitcoin. Quindi il loro la loro predizione è o zero o quasi. Questi sono Joe Davis, Bill Gates e Kenneth Rogoff. Sono appunto economisti legati molto al mercato tradizionale legati al sottostante che ci deve essere secondo loro ci deve essere una produzione di valore intesa proprio come l'azienda stessa che fattura piuttosto che la materia prima sotto e quant'altro e quindi non credono assolutamente in questo nuovo in questa nuova asset class che rappresenta bitcoin. E che dire io se devo dire il mio parere trovo più sensate le delle predizioni di questo tipo piuttosto che quelle che abbiamo visto fino adesso. Perché? Perché ha senso voler credere che il valore di bitcoin aumenterà nel tempo a diminuirà nel tempo. E quindi se uno non ci crede proprio ha senso dire secondo me prima o poi varrà zero. Molto più senso che dire varrà 250 mila dollari perché da dove lo tiri fuori quel numero lì non ha nessun tipo di senso. E ovviamente io faccio parte della schiera dei bitcoin bulls perché io credo nel valore futuro di bitcoin però non me la sentirei mai di predire il futuro e di predire un valore ma neanche per la prossima settimana. Figuriamoci per il 2020 proprio perché non ha assolutamente senso dal punto di vista del mercato, dell'analisi e quant'altro. Ovviamente nei bitcoin bears oltre a Bill Gates famoso per aver detto che bitcoin è uno strumento soltanto di chi opera nell'illegale e abbiamo anche Warren Buffett che è un investitore assolutamente da rispettare che non crede nel futuro di bitcoin. Purtroppo ecco l'unica cosa che mi sento di criticare a questi economisti, investitori, comunque appunto persone che meritano assoluto rispetto, è il fatto di voler screditare anche pubblicamente e magari senza sufficienti motivazioni, volerle proprio demolire, screditare queste nuove tecnologie, queste nuove asset class solo perché loro non ci credono e non riescono magari bene a concepirli e a comprenderne il ruolo potenziale nel mondo. Forse perché attaccati troppo ai vecchi asset, diciamo così, agli asset tradizionali. Quindi niente, vi chiedo voi che cosa ne pensate, che qual è la vostra predizione, spariamo anche noi la nostra e vediamo se qualcuno magari avrà ragione e qualcuno ci azzeccherà. Prima di chiudere vi ricordo che se mi volete sostenere su una pagina qualunque del mio canale di YouTube potete donarmi una, cioè farmi appunto una piccola donazione tramite i Basic Attention Token, tramite il browser Brave, se lo state utilizzando, cliccando sul simbolino del Basic Attention Token e su invia una donazione. Qua c'è il mio ringraziamento e potete farmi una micro donazione per l'appunto per sostenermi e io ve ne ringrazio. Se non avete il browser Brave potete scaricarlo invece dal mio referral link che trovate sul video che ho fatto riguardo Brave e se lo utilizzate e lo scaricate tramite il mio referral link mi donerete 5 dollari in bet senza perderci nulla voi. Ragazzi vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata e alla prossima! Grazie a tutti!